Sono in grado i colleghi del Tg1, eccoci pronti per la nostra diretta, una puntata speciale naturalmente sul Sinodo. Abbiamo partecipato alla messa celebrata da Papa Francesco proprio per inaugurare questo appuntamento della Chiesa fondamentale, una Chiesa che vuole mettersi in ascolto, ma dal basso, non su un pulpito per redigere anche delle regole, ma davvero per essere al servizio del territorio e delle persone con autenticità, delle loro necessità, delle loro aspirazioni, dei loro orientamenti sessuali, insomma i giovani nella loro verità, ma non solo, anche l'ascolto nei confronti delle persone che hanno perso il lavoro, per cercare di capire anche come ripartire, l'ascolto nei confronti degli anziani, insomma davvero tanto, tanto oggi verrà affrontato nella nostra trasmissione e lo faremo con Monsignor Aereo Castelliamo, nostro amico di a sua immagine, Teolo, anche Don Giordano Goccini, che dovrebbe essere in collegamento via Skype, rettore del santuario della Beata Vergine della Fossette Novellara, ma lo dicevamo, insomma non solo conduttore delle ragioni della speranza, cambio di opinione, non è un'inchiesta. Allora, Monsignore, che cos'è questo Sinodo? Sentire, obbedire ed eseguire, cioè la Chiesa è tutt'altro, no? Anche perché le persone sono in cammino, cioè le persone... Anche da cui vogliamo prendere spunto, Don Giordano la provocazione la gira a te, perché Papa ha detto il prete non è che è il padrone della baracca, che cosa significa questa espressione, cioè è molto... Parole messe insieme, uscire da questa mentalità non sarà facile, non sarà facile per l'età anagrafica, diciamo così, dei componenti della Chiesa. Eccellenza, penso davvero applauso, perché abbiamo sentito questi ragazzi, giuro non erano pagati, non erano imboccati, per cui è tutta verità, ma... Le hanno chiesto, cioè quali sono le domande dei giovani di oggi? Provocano i giovani, no? Ma è quella provocazione costruttiva, Don Giordano, a mio avviso, perché altrimenti è tutto scontato, è tutto smielato. Invece i ragazzi di oggi, secondo me, hanno il coraggio, in qualche modo, di essere autentici, perlomeno è quello che dovrebbero fare relazionandosi con la Chiesa, di far fronte anche a queste provocazioni. Oggi? Strada ad altri vescovi, a tutti i pastori, a noi preti, agli operatori pastorali, perché effettivamente i giovani si sentono realmente ascoltati dalla Chiesa, non hanno paura delle fiamme dell'inferno, non si preoccupano. Entrare in dialogo con loro per capire come loro ragionano e questo ci costringe... Date. Sono tante le iniziative della Chiesa proprio per aiutare le persone a ritrovare lavoro. Gesti concreti, anche il Papa ci ha invitato a tutto questo, gesti concreti senza fare in modo che le persone... all'insegna della gratuità e senza la presunzione che poi le persone si convertano alla religione. Sì, questa è sempre stata una... Oggi l'Emilia Romagna è in pazza qui, eh? Oggi l'Emilia Romagna è in pazza qui, eh? Giordano. E spero che ci entreranno decisamente, perché il Papa ci ha chiesto... nei confronti di chi si trova in difficoltà, non si rischia che la Chiesa si sostituisca lo Stato? Non è quello che dovrebbe fare lo Stato? Ma sempre la Chiesa ha attivato... umano deve stare a cuore alla Chiesa. E lo dicevo prima, no? Introducendo il tema lavoro. Una delle conseguenze della perdita del lavoro è inevitabilmente la povertà. Perdita del lavoro, a volte perdita della casa. E quindi indigenza. Allora, guardate questa iniziativa della Caritas di Fossano. Andiamo quindi in provincia di Cuneo. Poi torniamo in studio. Questa esperienza, perché è proprio un accompagnamento per arrivare poi all'autonomia, perché altrimenti diventa obolo, umiliante. Non è questo, no? Allora, qual è il ruolo della Chiesa, Marco? Per garantire una maggiore concretezza di giustizia sociale? Beh, l'attore pastorale, quelli che chiamiamo tali, non sono chiamati... Può liberamente dire la sua senza sentirsi giudicato. Paolo Balduzzi, ben trovato. Approfondiamo tutto questo e soprattutto le notizie di questa settimana. Prego. Paolo, nella costruzione della pace siamo tutti chiamati in causa. Tutti dobbiamo collaborare alla costruzione appunto della pace. Tutti senza escludere nessuno, soprattutto gli anziani. E gli anziani sarà un altro tema, saranno altri protagonisti del sinodo. L'ascolto verso appunto coloro che sono più avanti negli anni. Guardate questo filmato. Trovo di una dolcezza incredibile queste testimonianze, perché lo abbiamo ascoltato. Spesso non si riescono a risolvere i problemi, no? Delle persone, ma stare accanto è già un dono incredibile. Nella mia famiglia, ho avuto la mamma fino a qualche anno fa, che anche quando non sono più in grado magari di comprendere bene, di avere una memoria fresca, di fare dei ragionamenti, percepiscono benissimo l'affetto. E in questo mi colpisce il fatto, legandomi al discorso dei giovani, che tanti ragazzi e giovani sentono il rapporto con i nonni in maniera particolare. E molti durante il lockdown dicono... Quindi c'è davvero un ascolto e un invito a credenti, non credenti, a tutte le persone di buona volontà, che vogliono creare relazioni diverse. Grande fiducia anche agli anziani, che sono, come abbiamo sentito prima, quelli che la società odierna cerca di emarginare per opposti motivi. Quindi, certamente, gli anziani, noi anche, che siamo già, e anche gli amici che hanno più anni e più esperienza di noi. Don Giordano, ti vedo sorridere, ma tu davvero non rientri, sei giovanissimo. L'invito del Papa è anche quello, soprattutto, di non insonorizzare il cuore. L'ha detto questa mattina, non blindiamoci dentro le nostre. Per gli anziani i cambiamenti sono davvero più difficili, ma dobbiamo anche fidarci... Ti fermo, vedo il Santo Padre, allora lo accogliamo con l'affetto di sempre. Ci uniamo, naturalmente, all'abbraccio che parte dalla piazza per Papa Francesco, che ci ha invitato a riflettere sul stato di salute del nostro rapporto con Dio. Non è un rapporto commerciale, non è un doubt des, eccellenza, perché viviamo in una società in cui si rincorrono. Questo sarà il centro, è un po' lo spirito anche del sinodo Don Giordano, perché lo dicevamo, il Papa ci invita a non insonorizzare il cuore e a non blindarci dentro le nostre certezze anche. Sì, prima nel servizio... Quindi nel sinodo, davvero, come dicevamo, protagonisti tutti. Però, insomma, siamo abituati, ha invitato anche Monsignore, possono essere protagonisti di questo ascolto e possono dare poi il loro contributo. L'eccezione è che siamo un popolo e nel popolo ci sono funzioni diverse, ma tutti sono importanti. In uno dei suoi discorsi va detto il popolo ha fiuto, perché la gente semplice coglie i veri problemi e anche... ...e l'ascolto è dal basso, no? Come dicevamo, non da un pulpito o da un piedistallo. Siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, intanto gli appuntamenti, prima l'agenda però, Paolo. Allora, Lorena, io ricordo a tutti che martedì prossimo, 12 ottobre, la memoria liturgica del bianco... Fine, sono le 12.16.37, il tempo per salutare e ringraziare Monsignor Castellucci per essere stato con noi. Buon ascolto, naturalmente. Lo stesso augurio a Marco Tibaldi, che incontra continuamente i giovani, anche grazie al suo lavoro di docente universitario. Don Giordano, naturalmente non finisce qui, che non è una minaccia, ma ci ritroveremo anche, ti ritroveremo in dialogo proprio con i ragazzi. Grazie, grazie a tutti e grazie soprattutto a voi che ci seguite da casa. Ci vediamo sabato prossimo e poi a Dio piacendo. Grazie.